A che serve la mente? La mente serve solo ad attraversare la condizione umana. Perché serve solo per questo? Perché, come il topo nel cerchio, la mente insegue sempre se stessa e non riesce mai a spiegare che cosa stiamo a fare qui. Chi lo potrà spiegare quando la mente sarà superata sarà la coscienza. A che serve la mente? La mente serve solo ad attraversare la condizione umana. Perché serve solo per questo? Perché, come il topo nel cerchio, la mente insegue sempre se stessa e non riesce mai a spiegare che cosa stiamo a fare qui. Chi lo potrà spiegare quando la mente sarà superata sarà la coscienza.